Il tuo consulente Grometeo ti dà il benvenuto su Agro, notizie del tempo previsto per questo fine settimana tra il 12 e il 14 di febbraio. Bene, è in arrivo la più intensa ondata di freddo dall'inizio dell'inverno, ormai quasi una certezza. Questo non significa necessariamente che sarà anche la fase più nevosa dall'inizio dell'inverno perché i venti che porteranno a questo forte abbassamento della temperatura, ora questo forte freddo, saranno i venti siberiani, i quali sì sono molto freddi ma sono anche piuttosto secchi per cui danno luogo a nevicate di scarso rilievo. Ma le nevicate ci saranno e come? Andiamo a vedere venerdì 12, nevicate anche in pianura su Piemonte, sud ovest della Lombardia, regione Appennini che potrà nevicare a Torino, Cuneo, Alessandria potrà nevicare a Pavia, forse qualche fiocco a Milano potrà nevicare anche a Perugia. Andiamo a vedere invece sabato 13, nevicate su tutto il centro-sud fino alle coste, su Marche, Abruzzo, fino alle coste delle Marche dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia, comunque nevicate su tutto il centro-sud, qualche nevicate probabilmente anche a Parma e a Bologna, sulle zone pedemontane dell'Emilia, potrà nevicare anche a Firenze, a Siena, potrà nevicare Perugia, a Terni, Viterbo, Frosinone, ma non a Roma purtroppo, potrà nevicare a Pescara, a Termoli, a Bari, potrà nevicare forse anche a Napoli, potrà nevicare anche a Catanzaro. Andiamo a vedere per domenica 14, nevicate sulla regione del medio adriatico al sud, fino alle coste, nevicate persino sulle coste, su Marche, Abruzzo, Molise e sulla Puglia. Le nevicate saranno, come dicevo prima, deboli, ossia inferiori in media ai 15 centimetri, per lo più intorno ai 7-10 centimetri. Le temperature ovviamente subiranno un tracollo tra il 12 e il 14 di febbraio, un tracollo di una decina di gradi, il che farà sì che quando domenica ritornerà il sereno su gran parte del centro nord, il rasserenamento notturno, il raffreddamento notturno, unito alle gelide già correnti in arrivo, faranno sì che le temperature minime siano intorno a meno 7-5 gradi sotto 0 su gran parte del centro nord. E attenzione, a questo si aggiunga il fatto che domenica soffieranno forti venti di bora sulle regioni centro-meridionale, i quali abbasseranno la sensazione termica di altri 5 o 6 gradi. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.